Gentili telespettatori, buona giornata. Interviene anche, diciamo, vi racconterò della Meloni sul caso Sant'Anché. Caso Sant'Anché, che cos'è? Cos'è successo? La Sant'Anché con le sue società avrebbe messo 13 persone in cassa integrazione Covid, quindi pagate dallo Stato, però le avrebbe continuate a far lavorare in azienda. Quindi le persone in cassa integrazione avrebbero preso i soldi dallo Stato e avrebbero continuato a lavorare in azienda invece che a stare a casa. Quindi si prefigura l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, ai danni dell'Inps, che è un'accusa gravissima. Le opposizioni chiedono le dimissioni, la Schlein, Conte, è ufficialmente la Sant'Anché iscritta nel registro degli indagati per truffa all'Inps. Ieri sera Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si sono parlate, ha telefonato, si sono telefonate, ha telefonato la Sant'Anché. C'è stato un colloquio, Giorgia Meloni, Daniela Sant'Anché, ministro del turismo, fedelissima del presidente del Senato, la russa. La presidente di Fratelli d'Italia l'ha rassicurata. Per ora, le ha detto, non c'è alcun bisogno di dare le dimissioni. Vediamo le carte e aspettiamo la decisione del GUP, giudice, udienze, preliminari. Questa è l'indicazione del capo del governo. È ovvio, andranno capite le mosse dell'opposizione. Allora, il GUP. GIP, GUP, processo. GIP, giudice, indagini, preliminari. Si fanno le indagini preliminari con un'ipotesi di truffa, ma non c'è nessun iscritto nel registro degli indagati. Il GIP, giudice del preliminare, valuta, conclude le indagini e decide, il GIP, di iscrivere Daniela Sant'Anché nel registro degli indagati. Adesso passa tutto al GUP, giudice, udienze, preliminari. Cosa dovrà fare il GUP? Dovrà rivalutare le carte del GIP, che ha mosso queste accuse e è iscritto nel registro degli indagati della Sant'Anché. Il GUP dovrà decidere se rinviare a giudizio la Sant'Anché, si apre il processo, o chiudere tutto, perché il fatto, secondo lui, non sussiste. Non c'è reato. Quindi un secondo giudice vedrà se andare avanti o no. Primo giudice GIP, secondo giudice GUP. Se il GUP, giudice, udienze, preliminari, deciderà di procedere, le carte passeranno a un altro giudice, a un terzo giudice, che sarà quello che istituirà il processo, dove si dichiarerà innocente o colpevole la Sant'Anché. I tempi sono a volte biblici. Una volta finito il processo non ci sarà più neanche il governo Meloni, magari c'è il governo Meloni 2. Quindi capite che le decisioni della magistratura non vanno di pari passo con i tempi della politica. Quindi può essere dichiarata innocente, dopo che magari lei è stata cacciata dal governo, o può essere dichiarata colpevole dopo che si è fatta tutti i cinque anni di legislatura. I due tempi non vanno di pari passo. Quindi o cacci il ministro dicendo io credo che sarà colpevole, oppure ti tieni il ministro dicendo boh, fra cinque anni quando ci sarà la sentenza, tanto il governo non ce neanche più, campacavallo, che l'erba cresce. C'è imbarazzo nella maggioranza ovviamente. Nei piani alti di Fratelli d'Italia, diciamo che qualcosa in più rispetto a qualche mese fa c'è, dicono, ma prendono tempo. Tajani, che già si schiera, dice io sono garantista, lo sono per quanto riguarda Bari e per quanto riguarda ogni vicenda che tocca politici e non politici. Una persona è innocente finché non è condannata in terzo grado di giudizio. Quindi Tajani dice, in questo momento la Santanchè è innocente, non ha nessuna condanna. Se un giorno sarà condannata, sarà condannata. Se un giorno sarà assolta, sarà assolta. Ma in questo momento, sono garantista, Daniela Santanchè in questo momento per me è innocente, dice Antonio Tajani, Anthony. In attesa della Lega Santanchè a sera dirà una nota in cui si dice sorpresa delle contestazioni, perché ritiene acquisita agli atti la mia estraneità a ogni decisione societaria relativa alle modalità della messa in cassa integrazione di alcuni dipendenti. Quindi lei dice, non che è vero o falso il fatto che i 13 dipendenti erano in cassa integrazione e invece continuavano a lavorare, prendevano i soldi dello Stato e continuavano a lavorare. Lei non sta dicendo che non è vero. Lei sta dicendo che io non c'entro niente, mica ho deciso io, non ne sapevo niente. Quindi la sua linea difensiva non è è vero o no che i 13 dipendenti lavoravano, anche se pagati in cassa integrazione. Lei dice, io non ho preso nessuna decisione di sotto questo aspetto, perché io non avevo capacità decisionale, non ero io che decidevo. Mentre la sinistra dice, ha già mentito in Parlamento in passato e continua a mentire, dice Conte, Schlein e l'opposizione. Beh, dice proprio così. Dice che lunedì i suoi legali chiederanno gli atti per la memoria difensiva e l'eventuale mia richiesta di essere sentita, dice la Santanchè. La sua presenza è che la Vicenza possa concludersi per me positivamente già con l'archiviazione da parte del PM o con il giudizio del GUP. Ma anche se per la Costituzione, fino all'esito definitivo dei tre gradi di giudizio, nessuno può essere considerato colpevole. La ministra apre a un passo indietro. In sede politica, dopo la decisione del GUP, per rispetto del governo e del mio partito, farò una seria e cosciente valutazione di questa vicenda, che è comunque antecedente alla mia nomina ministro. Che sia antecedente o no, la nomina di ministro o no, oggi sei ministro della Repubblica e se poi sei ritenuto colpevole di truffa ai danni dello Stato, insomma, un ministro poi eventualmente colpevole di truffa ai danni dello Stato, insomma, diciamo che non sarebbe proprio il massimo per l'onorabilità delle istituzioni dell'Italia, se dovesse essere dichiarata colpevole. Oggi, come dice Tajani, oggi il ministro Santanchè non è colpevole di nulla, perché non c'è nessun giudizio della magistratura, ma ci sono delle ipotesi di reato dove lei si difenderà e magari dimostrerà che lei non ne sapeva nulla, che lei era estranea a qualunque decisione di queste sue aziende e che lei non sapeva di questo. Può anche essere che lei non sapesse. Vedremo. Arrivederci a tutti e grazie.